1 contro 30 davanti ad una scacchiera. 31 giovanissimi giocatori di scacchi. Tutti hanno otto anni ma uno di loro è già maestro di questo antichissimo gioco ideato dagli antichi persiani. Lui si chiama Lorenzo ed ha subito mostrato una particolare attitudine a questo gioco non facile. Ancora più difficile giocare una simultanea come questa. Lorenzo deve ricordare con un solo sguardo la situazione di 30 scacchiere diverse mentre i suoi avversari hanno il avvantaggio di avere più tempo per pensare in attesa che finisca il giro e quello che il maestro possa distrarsi più facilmente a causa dello stress. Siamo a Taranto alla direzione didattica del sedicesimo circolo dove nell'ambito dei programmi finanziati dall'Europa è stato inserito l'insegnamento di questo sport. Si tratta infatti di uno sport a tutti gli effetti riconosciuto anche dal CONI. Ascoltiamo Luigi Troso della Feder Scacchi ed il preside Francesco Urso. Gli scacchi sono lo sport della mente per cui hanno il pregio di allontanare i nostri ragazzi un po' da quelli che sono i giochi statici che praticamente sono sulla frontezza dei riflessi tipo insomma mi riferisco ovviamente alla playstation. Gli scacchi sono un gioco di strategia estremamente utile per ampliare le conoscenze ma soprattutto le abilità dei bambini che migliorano non solo le loro competenze di natura scientifico-matematica ma anche la loro attitudine al problem solving.